Il Gilda Roma, oggi il complanno di un grande amico Riccardo Modesti, vediamo la serata insieme Miss Intimo al Gilda, una serata dedicata alla bellezza femminile Sono Giorgia Gianna Andrea e sono qui al Gilda di Roma per il compleanno del patron di Miss Intimo Riccardo Modesti Io sono la vincitrice di Miss Intimo 2013 e volevo fare un saluto a Facebox Buonasera, sono Claudia Motta, sono al complanno di Riccardo Modesti e voglio fare un saluto a Facebox Ciao, sono Giulia Presciutti, ho 18 anni e vengo da Roma Sono qui questa sera per festeggiare il compleanno di Riccardo e sono una delle ragazze che fa parte del concorso di Miss Intimo Un saluto a Facebox Auguri a Riccardo Io sono Riccardo Modesti e il patron di Miss Intimo Stasera siamo qui al Gilda, ci sono tante belle ragazze, ci sarà un grande spettacolo e ci sarete voi Facebox Ciao a tutti Sono Tegla, sono una ballerina Stasera siamo qui alla festa di Riccardo Modesti, padron di Miss Intimo Un bacio, un saluto a Facebox Buonasera, sono Emilia da Gilda, mi piace la Facebox Sono Camillo del Romano, questa sera sono qui al Gilda di Roma per festeggiare il compleanno dell'amico Riccardo Volevo salutare tutti gli amici di Facebox, seguiteci numerosi Ciao Camillo Sono Rianna Cozzi, sono arrivata seconda alla finale nazionale e sono contentissima di essere qui al Gilda a festeggiare il compleanno di Riccardo Innanzitutto auguri a Riccardo e un saluto a Facebox Sono Enio Drovandi, Riccardo Modesti è una storia, per tanti di noi è anche una leggenda perché è uno che si è inventato un mestiere E se l'ha inventato in un modo straordinario, in un modo molto serio, molto garbato, molto professionale E quindi è diventato il patron di Miss Intimo Grandi auguri di buon compleanno dal tuo amico Enio Drovandi, da Facebox, bellissimo Ciao Riccardo Modesti, Deino Drovandi, un abbraccio e un bacio, e ti voglio bene Sono Pamela Olivieri, sono qui al Comprendi Riccardo e un carissimo abbraccio per voi amici di Facebox A presto Io sono Angelo Ciccionizzo Sono felicissimo di poter fare gli auguri al nostro caro amico Riccardo Modesti E faccio anche gli auguri a Facebox Spero abbia più successo di Facebook Questo è Facebox Quindi grazie, tanti tanti auguri Riccardo Ciao Ciao Facebox Alla prossima ragazzi, ciao Sono Gio Di Giorgio, mi trovo qua al Gilda, la location più cult di Roma Sono qui per chi? Per Riccardo Modesti che è il guru di Miss Intimo Grazie e un saluto a tutti gli amici di Facebox Ciao Alla prossima, Gio Di Giorgio Sono Sabrina, sono qui al compleanno di Riccardo Modesti Sono venuta qui per fargli gli auguri e un saluto a Facebox Sono Antonella Franchi, questa sera sono al Gilda, ospite di Riccardo Modesti Approfitto per fare gli auguri e ringrazio tutti da Facebox Siamo stati benissimo qui al Gilda, la domenica più ambita di Roma Un saluto a tutti gli amici di Facebox Un saluto a tutti gli amici di Riccardo Modesti Un saluto a tutti gli amici di Riccardo Modesti